Lanzinovic spinge il pallone nel muro, arriva il punto per Ravenna ma si arrabbia Lanzino chiede un video check forse Stoic, vediamo un po' Per un'invasione? Sì, penso sì Sì Vediamo che cosa ha chiesto perché ha parlato con il secondo arbitro per spiegarsi meglio Ha visto che indicava ai giocatori di Ravenna come se ci fosse stato un tocco a rete Però non lo so perché è stata talmente veloce l'azione È stato bravo comunque Vukasinovic a mettere a terra questo pallone, questa palla che era molto a fil di rete Lui l'ha spinta tra le braccia protese del muro avversario, lo rivediamo Non c'è invasione No, vedi, veramente è stata una grandissima precisione, guarda Pazzesca, bravo Vukasinovic No, no, no Allora Molta attenzione, capitano Molta attenzione Allora, dirigente allenatore, ultimo richiamo Chiaro così, non possono parlarci, dare i loro, alzare di su tutte Abbiamo un video check, lo guardiamo noi e è a posto, ok? Si può valutare l'accompagnata, mister lo sa bene L'accompagnata? Lui ha chiesto l'accompagnata? No, ma non si può valutare, giustamente Vierta